Tragedia nella notte a Civitella del Tronto. Un uomo di 47 anni è morto nell'incendio che lui stesso avrebbe appiccato nell'abitazione condivisa con la moglie e quattro figli, due dei quali minorenni. A dare l'allarme è stato proprio uno dei due ragazzi. A loro arrivo i soccorritori hanno trovato il corpo dell'uomo riverso sull'uscio e a poca distanza la moglie con difficoltà respiratorie. Hanno trasportato in ospedale la donna e i figli che avevano respirato le esalazioni provocate dal rogo. Le operazioni di spegnimento sono risultate e particolarmente impegnative anche a causa delle difficoltà di accesso all'abitazione. Una volta raggiunti i locali incendiati vigili del fuoco hanno affrontato le fiamme che stavano divampando con violenza nel locale soggiorno con all'interno arredi e suppellettili provvedendo a spegnere le fiamme. L'incendio che fortunatamente non ha raggiunto la diacente locale cucina dove è installata una bombola di gpl ha sviluppato un denso fumo che si è diffuso a tutti i locali del piano terra. Sul posto una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Nereto con un'autopompa e un fuoristrada con modulo antincendio. Oltre al 118 e ai carabinieri delle stazioni di Tortoreto e Civitella del Tronto con i colleghi della compagnia di Alba Adriatica che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il PM di turno, il sostituto Francesca Zani, ha disposto l'autopsia sul corpo del 47enne. In base ad una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri la situazione nella famiglia era tesa da tempo. L'uomo era spesso violento e aveva minacciato di morte la moglie. L'uomo ieri sera rientrato in casa avrebbe cosparso di liquido infiammabile, probabilmente benzina e il divano dandogli fuoco con l'intento di uccidere tutta la famiglia. A portare in salvo la madre e i fratelli più piccoli sarebbe stato il figlio ventenne, poi rientrato in casa per soccorrere anche il padre, ormai esanime. L'abitazione è stata dichiarata inagibile. Dai primi rilievi il 47enne sarebbe morto per asfissia. Si attende però l'esito dell'autopsia. A causa dei danni subiti dal solaio tra i piani terra e primo provocati dal fumo, l'abitazione è stata dichiarata non agibile.